E torniamo in Italia con l'arrivo dell'anticiclone ribattezzato Lucifeo. Temperature in aumento ovunque, picchi di oltre 40 gradi al centro sud. Giulia Palmieri. La lancetta di un termometro che punta oltre i 30 gradi già di prima mattina, una coltre di aria umida che colora di grigio il cielo sopra Campobasso. Il caldo dell'anticiclone africano è arrivato e resterà ad arroventare il nostro paese per diversi giorni. La causa è un flusso di correnti molto calde di origine desertica, quindi provenienti direttamente dalla Sahara, che stanno interessando e interesseranno almeno fino a domenica lunedì tutta la nostra penisola e quindi tutto il Mediterraneo. Il capoluogo molisano è una delle città per cui il Ministero della Salute oggi segnala allerta massima. Bollino rosso insieme a Bari, Rieti e Roma e domani l'elenco si allungherà. Un caldo a cui deve fare attenzione chiunque, che può avere effetti negativi non solo sulla salute dei più fragili. Si legge sul sito del Ministero, ma anche sui soggetti sani e attivi. Dal 2003, dalla famosa estate che interessò, appunto l'ondata di caldo che interessò tutta Europa, questo tipo di fenomeni, questo tipo di ondate di calore risulta più frequente e più duraturo. Ed in prospettiva è molto probabile che questo tipo di fenomeni siano destinati ad intensificarsi. L'anticiclone con aria calda e secca arriva dal nord dell'Africa. Si aggiunge alla scarsità di piogge in Puglia, più che in altre zone, è doppia emergenza anche per l'agricoltura. L'acqua, l'umidità, perché la temperatura oggi sarà 42 gradi oltre. A Firenze, Pistoia e Prato, i lavori per allacciare i nuovi tubi dell'acquedotto costringono 450.000 famiglie a stare senza acqua nelle giornate più calde dell'anno. E come abbiamo sentito, Roma è una delle città da bollino rosso. Dal Centro Storico della Capitale ci colleghiamo in diretta con Elena De Vincenzo. Ciao!